E adesso cambiamo pagina, procede l'impegnativo e vario cartellone estivo 2019 a San Vitolo Capo. Tra le manifestazioni maggiormente significative la rassegna letteraria Libri Autori e Bungaville, con la presenza di autori disposti a discutere dei loro libri a pochi passi dal mare sotto la rigogliosa pianta, una formula innovativa ma che consolida l'amore della terra trapanese verso la cultura. Abbiamo sentito proprio in occasione di uno degli incontri, in questo caso in via Venza, definito salotto culturale sanvitese, il sindaco Giuseppe Peraino. Quale scenografia è migliore per la cultura? Una bomboniera, ci si ferma per assaporare un qualcosa di estemporaneo? Sì, quello di Libri Autori e Bungaville, che quest'anno compie 20 anni, è un'iniziativa che è partita con me sindaco nel 1999, assieme a Giacomo Pilati, che collabora e coordina dal punto di vista culturale l'evento. È stata allora quasi una follia perché vent'anni fa mai avrei potuto immaginare che questo evento culturale diventasse il più longevo di Sicilia. Il primo in assoluto è che per i tantissimi partecipanti, tra scrittori, saggisti e quant'altro, di livello nazionale non solo, ha dato ulteriore rilevanza e importanza all'attività del Comune di San Vitolo Capo ed è servito quindi a promuovere anche il territorio. Libri Autori e Bungaville è il nome appunto perché questa via Venza è uno degli scorci particolari di San Vitolo Capo con questa Bungaville che nasce lì spontaneamente, che noi abbiamo curato con grande amore in questi 20 anni. Guaghi Latocca è diventato un momento importante. Devo dire che è molto apprezzata questa iniziativa perché tantissime vacanzie, tantissimi turisti, tantissimi amici che frequentano, che vivono San Vitolo Capo, avendo anche la seconda casa, lo aspettano con ansia questo momento importante perché è un momento di confronto, vi ascolto, ma un momento importante di confronto con l'autore. È entrato il mese d'agosto il cuore dell'estate, come ci accingiamo a viverla? Noi cerchiamo di continuare a dare i servizi che abbiamo dato sin d'ora ai tantissimi turisti che frequentano questo nostro territorio con poi tutte le iniziative che porteremo avanti durante questo mese di agosto oltre al Libra Vottore Bungaville, tante altre iniziative di musica classica, di teatro, di cinema all'aperto presso il Palazzo La Porta, oltre a una serie di attività di intrattenimento per le piazze, il Festival Jazz e quindi c'è ogni sera sempre qualcosa da fare. San Vito Capo è un cuore da amare e speriamo che sempre in tantissimi continuino ad amarlo in tutti i sensi, non soltanto con la loro presenza ma con il rispetto del territorio, con il rispetto dell'ambiente che è il mio e il nostro vessillo perché soltanto avendo rispetto per l'ambiente, per il territorio, per il mare possiamo continuare a crescere perché il turismo ecoambientale è una forma di turismo che funziona ed è quella che rappresenterà sicuramente il futuro per San Vito Capo e mi auguro per l'intera nostra terra di Sicilia.